La morte improvvisa del caporeparto dei Vigili del Fuoco, Domenico Ferra Catena, registrata ieri a causa di un malore mentre rappesca con il figlio lungo il torrente Salinello all'altezza di Galstelmanprino, ha lasciato tutti nello sconforto più assoluto, in particolare oltre alla famiglia i tanti colleghi che da tempo lavoravano con lui. Il malore lo ha colto all'improvviso e il primo a intervenire è stato proprio il figlio. In quella zona tra l'altro la copertura telefonica era scarsa e per chiamare i soccorsi il ragazzo è stato costretto a risalire un impervio pendio per trovare un punto in cui c'era il segnale telefonico. In poco tempo sul posto sono arrivati i colleghi di Ferra Catena con l'elicottero partito da Pescara e i medici del 118 che hanno fatto di tutto nel tentativo di rianimare l'uomo con l'utilizzo prolungato anche del defibrillatore. Ferra Catena, detta di tutti, era un uomo sempre pronto ad aiutare gli altri, dal terremoto dell'Aquila a quello di Amatrice, dalle alluvioni alle grandi emergenze fuori regione. Domenico Ferra Catena è sempre stato in prima linea. Domenico Ferra Catena è un amico, un collega, un coetaneo. Di Domenico sicuramente ricorderemo la gioia, la serietà, la professionalità. Ecco questi sono i valori che credo che Domenico abbia lasciato ad ognuno di noi. Una tragedia che ha colpito profondamente tutta la comunità camplese dove Ferra Catena era cresciuto e viveva con la sua famiglia. Queste le parole del sindaco Federico Agostinelli. Una bravissima persona, sempre disponibile, col sorriso, molto impegnato anche nell'attività sociale del territorio, molto appassionato di caccia, di montagna. Ed è stata ieri una notizia bruttissima per la comunità di Campli quando abbiamo saputo dell'accaduto. Era in presenza con il figlio che era tornato da Rimini. Io mi sento a nome di tutta la comunità di rivolgere un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia che ieri ha avuto questo grande dolore.